Bassano si muove, ma Sant'Orso è sempre un passo in avanti. I sindaci del distretto bassanese in settimana hanno presentato un documento in cui chiedono ai consigli comunali del territorio di sottoscrivere una generica richiesta di impegno sul fronte servizi e sociale per l'ospedale cittadino. Troppo poco rispetto a quanto accaduto sul fronte dell'Alto Vicentino. Basta questo cartello esposto in un gazebo con tanto di raccolta firme per ribadire che sì, loro hanno dato l'accelerata necessaria a mantenere i servizi. Il Comitato Schio Pedemontana, nato per garantire l'equità del sistema sanitario su tutto il territorio, ha presentato una proposta di distribuzione dei primariati che è seriamente presa in considerazione nei corridoi di Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Chiedono un'equa distribuzione tra Sant'Orso e Bassano con questo preciso schema. Chiedono poi di superare il fatto di concetto di area critica, rendendo tutte e due gli ospedali dotati di quei primariati che rispondono appunto alle esigenze di pronto intervento di emergenza. Insomma, se da una parte il Consiglio regionale al momento delle scelte avrà un documento chiaro, dall'altra si troverà in mano una debole e generica richiesta che non entra nei particolari. Chi vincerà, secondo voi? Domanda retorica e con risposta scontata. Quindi, cari sindaci del Bassanese è ora di darsi una mossa.